questo video è sponsorizzato da cardrader clicca sul link che troverai nel testo di questo video avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace eccoci qui cari naviganti per un nuovo video dedicato all'edh e questa volta io mi sono permesso di fare un approccio un po a questo tipo di contenuto come vedete in alto dall'altra parte c'è un'icona con un nuovo ospite e insieme a questo nuovo ospite faremo come si può anche vedere allo sfondo dell'immagine che abbiamo trattato in gemelli cattivi non siamo gemelli in realtà non siamo neanche parenti però diciamo che siamo molto affini e vorremmo parlare io e fabio che vi presento qui con me ciao buon salve a tutti esatto già dalla faccia si capisce come mettere insieme un uomo che ama esper a un uomo che ama grixis far uscire il peggio di noi esattamente e abbiamo anche diciamo che quando i ragazzi qui presenti di underground si si sono avvicinati e soprattutto il vostro volto subito è partito qualcosa una musichetta lugubre anche perché quando mi è stato detto noi non vogliamo creare qualcosa noi vogliamo creare dolore eccomi qui signori ecco io vorrei anche che ti presentassi un attimo perché tu hai un canale tra l'altro twitch hai altri contenuti fai cose in giro per il web esatto tra l'altro a te ma anche giappone e horror perché non mi conoscesse io sono fabio in arte soggiobbo e sono il volto del canale twitch le vai a tan d'aisis soggiobbo mi diletto con un po di sano magic ma non solo anche giappone anche horror soprattutto horror e soprattutto anche molto molto videoludico per quanto riguarda la compagina magic sono un giocatore che adora l'eternal così anche un deck builder molto appassionato di tutte quelle interazioni che possono dare il peggio di sé sul board ed è questo diciamo il focus di questo contenuto non entriamo nel merito di una lista o di un concept di gioco attraverso questo generale nello specifico ma vogliamo dimostrarvi come se vedete nella zona di comando questo comandante queste sono le mestizie potenziali che vi possono arrivare in faccia una o più perché in realtà potreste anche averne più insieme a seconda di come poi il vostro avversario nello specifico troverà le carte tra le sue 99 oppure se vi vogliamo un po così portarvi sul lato oscuro visto che io tra gli altri sono anche dar fener nella lordi di guerre stellari per tutta una serie di motivi storici e quindi come vedi l'unione fa la forza anche in questo possono essere le vostre tech da inserire se volete giocare breia e se volete fare male agli altri poi mettete in conto che la gente vi guarderà male ma questa è una cosa che qualcuno lo deve fare noi abbiamo fatto alcun contenuto sugli arcenemi e tra le varie rig ho detto però se siete convinti di farlo fatelo bene almeno ricordate infatti e comunque giocare questi elementi vi farà diventare il nemico numero uno vi farà forse diventare l'obiettivo di un di un sub game di magic uccidi il cattivo l'arcenemi per eccellenza però diciamo che questo ha un duplice scopo da una parte illustrare cosa potreste trovarvi cosa potreste montare e trarne le giuste conseguenze perché magic in edh forse più che in altri formati può veramente nascondere la perfidia dell'uomo perché io si possono vedere delle cose chiaramente potendo accedere a un parco di carte infinito si possono veramente assemblare le peggio cose che l'umanamente possa concepire con questo gioco ma ripeto andiamo con ordine raccontiamo chi è breia stato già personaggio abbastanza horror di suo perché non c'è neanche mezzo corpo quindi anche come personaggi in sé non è di più dei più sani diciamo che breia è un personaggio che fa del suo essere anche anni il punto forte un mara bianco blu un verde un rosso e un nero se si sarebbe anche mancato il verde sarebbe stato un'altra un altro avatar di alara questa amorevole creatura artefatto ci dà due bei effetti perché dico due non di più perché il primo ci dà due miseri pedini totteri 11 cosa anche tra l'altro che può far piacere come può anche essere completamente irrilevante ma due mana sacrifica due artefatti significa scegliere tra ehi ti faccio fulmine in faccia ehi una tua creatura è morta meno 4 meno 4 fino alla fine del turno oppure ma chi vorrebbe mai guadagnare cinque punti vita quando c'è la possibilità di fare del male agli e giusto per rimanere in tema e raccontarvi il malessere che può provocare questo e questo comandante andiamo a vedere come generare bloccanti tra l'altro con tocco letale praticamente per tutta la partita intanto avremo questi permanenti in campo perché perché se noi assembliamo una terra che l'academy ruins con valeful streaks che è un innocuo 1 1 a costo 2 che a volare tocco letale e quando entra ci può pescare ma che è anche un artefatto così a caso è una certa emry che rivedremo anche più avanti perché è una signorina che fa discrete porcate con gli artefatti e vedete già cominciate già a capire cosa vuol dire affrontare un tipo che dice ah sì io ti vorrei attaccare vabbè non c'è problema ma io ti metto davanti un 1 1 con volare tocco letale poi fai cosa vuoi infatti come potete ben vedere comunque la possibilità di fare recursion quindi di di mettere perennemente in campo questo baleful streaks permette di materialmente avere un removal fisso sul campo di battaglia dato che ha dead touch ma soprattutto la scelta di baleful streaks rispetto ad altre creature con dead touch artefattose e anche per il fatto che fa pescare una carta molto importante per quanto riguarda la giocata con academy ruins dove noi non vogliamo perdere comunque la nostra pescata aggiuntiva perché mettiamo sempre sopra ben fu streaks mentre con emry la questione si fa un pochettino più mainstream più lineare semplicemente blocco seconda main face tappo emry mi rigioco ben full per un ottimo e sempre molto godurioso a mio parere vantaggio carte che non fa mai mai male assolutamente e questo tra l'altro può essere fatto perché ricordiamo che l'effetto di emry è eventualmente a velocità in istante molti se lo dimenticano chiaramente non deve avere debolezza di evocazione ma questo dettaglio può essere fatto in qualunque momento quindi se per qualche motivo lo streaks è nel cimitero ed è lì che dorme tranquille beato i fessoni di gloria ma io ho bisogno di avere un bloccante questa azione può essere fatta tranquillamente puff e torna in campo questo ovviamente se abbiamo qualche pezzettino aggiuntivo vedasi qualcosa che dà flash ai propri artefatti o semplicemente shimmer mir che è il campione di questo di queste poco piacevoli per il vostro opponent giocate esatto e chiusa questa già cattiva azione costante ma che ancora non ha niente a che vedere col resto che vedrete tra un po passiamo a un altro piano praticamente di gioco che è di fatto assemblando una serie di pezzi non tutti il controllo totale del campo cioè noi arriveremo grazie a il ben noto e celeberimo mindslaver a bloccare tutti o comunque a bloccare il più rognoso di tutti e a ridurlo all'impotenza totale perché lo controlleremo nel vero senso della parola e non solo bloccheremo ma sarà come poter giocare due mazzi differenti nello stesso momento in quanto potremmo beh semplicemente utilizzare le sue stesse armi contro di lui oppure utilizzarlo per creare una piccola posizione di politica magari ecco spostando un po l'attenzione da noi da notare comunque che nella scelta daretti con la sua ultimetti ci permette comunque di fare tre copie di mind sliver il che per me il che ci permette di mantenere il controllo totale su ognuno dei nostri avversari se mai ci dovessimo trovare in una situazione anche abbastanza rognosa mentre con tezzeret emry e goblin wielder semplicemente lo utilizziamo anche come elemento di fastidio diciamo così questo perché se noi siamo in odore di un attacco che può darci problemi noi possiamo ricordare a chiunque che forse è meglio girare alla larga se non vogliono diventare i nostri piccoli schiavetti ricordiamoci che mind sliver è appunto una delle carte tra le più brutte da questo punto di vista il controllo di un avversario vuol dire vedergli la mano avere in mano tutte le sue risorse al suo turno poter castare qualunque cosa e quindi mandare all'assalto le sue creature a caso verso gli avversari usare le sue stesse rimozioni sui suoi pezzi comunque fargli fuori tutto il mana disponibile fare comunque effetti che lo danneggiano o danneggiano gli altri usando però le sue risorse non le nostre quindi è chiaro che questa cosa rende completamente impotente un giocatore per un turno e un turno in multiplayer sapete molto bene che è veramente tanto beh può fare tranquillamente la differenza fra la vita e la sconfitta esatto e che questa cosa possiamo anche immaginare di rifarla perché ricordiamoci che emry riprende artefatti da cimitero e lì rigioca tra l'altro questa cosa può essere fatta anche con academy ruins ovviamente in quel caso bisognerà pescare ma la logica è la stessa alla fine perché possiamo comunque riprendere al cimitero una carta ri e ottenerla in qualche modo e quindi ri e innescare questo loop capite che qui questo è un pacchetto ma può essere allargato semplicemente da altri pezzi che interagiranno con il cimitero in questo caso con my slaver ma poi vedremo anche con altro e quindi infatti e qui mi permetto di entrare infatti non osservate le singole i singoli pezzi come elementi di una combo fissa ognuno di queste le ognuno di questi pezzi può essere combinato a seconda di quello lì che vi trovate in mano a seconda di come pescate anche a seconda di quello lì che ahimè perché ricordiamo che ci sono altri tre giocatori insieme a voi vi ritroverete sul campo dopo i turni degli altri quindi semmai non vi doveste trovare tezzeret daretti emry oppure golden wilder non disperate basta semplicemente avere academy ruins e la situazione sarà sempre a vostro vantaggio perché appunto abbiamo altri backup su come muoverci parliamo di controllo degli avversari passiamo e infatti l'escalation continua esattamente andiamo avanti e se vi dicessimo che siamo in grado di spaccare praticamente di tutto esattamente tra l'altro e di nuovo con la stessa idea del loop andare a riprenderci artefatti che sono rimozioni e anche qui distruggere in modo chirurgico tutto quello che ci può rompere le scatole anche qui di nuovo più e più volte a seconda di cosa usiamo infatti cui ritroviamo shimmer mirror come strumento ulteriore per accelerare la nostra azione esattamente ma soprattutto c'è una carta che io non vedo spesso giocata in brea ma che secondo me può dare un doppio fastidio all'avversario necron deathmark e 5 mana per una 5 3 è un body molto simpatico flash quindi già con emri ci aiuta quel pochettino in più dato che possiamo castarla anche senza shimmer mirror ma che non solo spacca una creatura a terra dell'avversario ma macina anche tre carte attenzione macina tre carte a un target player potrei anche decidere di ammazzare magari caro roberto una tua creatura che è sul bordo e non lo so ho visto un altro giocatore che si è sistemato la top del mazzo con una qualsiasi carta vedasi senza i divani top sarebbe un peccato se macinassi a quel giocatore tre carte no esatto esatto oltretutto qui il fatto di poter rifare questi effetti perché ricordiamoci che farlo una volta è già malevolo qui vi stiamo facendo vedere questo mazzo lo può rifare e più volte e i pezzi che sono coinvolti in questo tipo di discorso non è uno sono più di uno quindi di nuovo nell'ottica di dire sì perdo un pezzo ok a detto che se no devono proprio esiliarmelo questo pezzo per ridurmi all'incapacità di poter fare questo effetto perché diversamente se torno nel cimitero li posso riprendere quindi ricomincia la ruota qui i pezzi che fanno questo gioco negli effetti sono più di uno perché abbiamo due artefatti normali tra l'altro artefatti comuni che sono facilissimi anche da recuperare quindi non so neanche carte particolari casualmente tre carte che arrivano dal set di warhammer 40.000 e poi giusto per giusto giusto per ma soprattutto tre carte che io ho selezionato appositamente per far capire che il set di warhammer 40.000 per quanto riguarda i mazzi a base artefattosa ha dato un'enorme spinta sia anche per quanto riguarda roba colorless come canoptec canoptec tomb sentinel che con un semplice rianimino e qui strizziamo un pochettino l'occhio ad emri strizziamo l'occhio a goblin wilder ci permette di spaccare permanenti non terra semplicemente per il semplice fatto di averlo messo dal cimitero in campo a nerd non lo utilizzeremo quasi mai perché abbiamo una buona dose di rianimini e magari anche per divertimento saccare il canoptec per giocarlo nuovamente in un altro modo o ancora meglio con il caos defiler scusami roberto avevo parlato di spaccare permanenti non terra perché limitarsi a uno quando possiamo farne ben 21 quando il caos defiler entra sul campo di battaglia e l'altro quando decidiamo di sacrificarlo per goblin wilder per mettere canoptec sul campo di battaglia avevo detto 2 questa roba può continuare così cioè essendo tutti artefatti per altro perché qui non dimentichiamoci che questi oltre essere creature nello specifico sono comunque artefatti quindi rientrano in tutte quelle logiche dove dal tutore all'effetto di goblin wilder sono comunque capacità di manipolarli senza nessun problema e farli rientrare nel grande disegno di breia dove tutti sono dalla sua parte e tutti si muovono e concorrono per farla vincere quale sia la loro natura non ha importanza quando parlavamo di daretti e la nostra cara mindslaver dicevamo vabbè prendiamo un giocatore ne facciamo ciò che vogliamo però qui cominciamo a spingerci un più avanti nel senso che uno si può accanire su qualcuno e può sembrare cattivo ma se io decido di bloccare completamente il tavolo esattamente cominciamo a salire ancora di più di livello perché micro synth lattice è una delle carte che rivedrete poi più avanti abbastanza spesso perché ha una bellissima abilità che va a prendere tutto il tavolo e tutti i permanenti tra l'altro neanche quelli giocati esattamente inoltre io mi sento in dovere di dire se vi trovate ad utilizzare questa combinazione ricordatevi che 123 possono tranquillamente non giocare se arriva il nostro turno chissà come potrei fare dato che il nullorod ci blocca anche a noi ma scusatemi roberto puoi far vedere un attimo brea esatto sacrifica due artefatti sacrificherò un artefattino così è il nullorod e ops se io gioco voi no siccome i pezzi per rimetterlo in campo ci sono questo piccolo elemento di stacks potrebbe veramente fare la differenza fra una normale partita fra amici e voi che dovrete guardarvi alle spalle perché vi vorranno tutti quanti menare a sangue esatto perché nullorod essendo un artefatto rientra nelle logiche di nuovo dette prima è un pezzo che posso giocare riprendere sacrificare e utilizzare per i miei scopi tra cui appunto fare ulteriori effetti dannosi con brea rianimarlo e così via quindi è chiaro che qui qui rientriamo nell'ottica proprio stacks pura una delle cose più veramente più brutte che si possa ad un livello tra l'altro pensato anche per colpire tutto quello che è l'attività attivate quindi esattamente ma adesso andiamo ancora più avanti perché qui arriviamo adesso abbiamo detto benissimo ho il modo di bloccarvi io riesco ancora a giocare voi no ma adesso potrei anche dirvi e se io comincio a giocare anche la vostra roba e qui pesa un atto ma non solo giocare la vostra roba evitare che voi si giochiate la vostra io gioco la vostra roba voi non la potete neanche giocare qui siamo allo stax 2.0 questo più che lo stax 2.0 mi piace definirlo come belli vostri mazzi sarebbe un peccato di giocassi io e in questo caso è una combo che io personalmente ho anche utilizzato prima di modern horizon 2 nella mia versione personale di uv control knowledge pool e the fairy time raveler è il lock perfetto già con knowledge pool il semplice fatto di entrare e prendere le prime tre carte da tutti quanti i mazzi ci dà un buon pool chiedo scusa per il gioco di parole di spell che possiamo lanciare poi certo dice ogni qualvolta un giocatore ma è qui che te fairy brilla nel modo più assoluto possibile ogni opponent può lanciare spell solo quando potrebbero lanciare una sorcery mi permetto di vestire un attimo i panni del giaggio se io lancio una spell io posso risolvere tranquillamente l'abilità di knowledge pool se lo fa un avversario non solo perderà la spell perché verrà messa sotto imprintata knowledge pool ma non potrà lanciare niente perché ci sarà un'abilità in pila e avendo un'abilità in pila significa che tu non puoi lanciarla come una sorcery che richiede una pila vuota e quindi bye bye la tua magia esattamente più che bye bye la lancerò io dopo esatto vivisce sotto crone bull e via discorrendo e ubamask è un altro pezzo del passato che il kamigawa ha tirato delle perle fuori senza senso giusto perché sai perché limitarsi solo a una quando potremmo avere un due effetti infatti questi due effetti uno o l'altro ci permettono con te fairy di fare appunto questo giochino che raccontavi che ci fa diventare padroni contrastati del tavolo a prescindere inoltre sì piccolo strizzamento di occhio la meno tre di te fairy con l'asset di carte che avevamo prima beh ops sarebbe un peccato se lo rimbalzassi in un qualche modo quella quella null rod esatto sì sì ma come vedete pian piano il diciamo così il puzzle di questa idea malvagia malsana che stiamo costruendo attorno vedete che incastra più cose insieme e andando avanti nel ragionamento e nelle possibili cattiverie che noi potremmo infliggere il nostro avversario qui cambiamo un pochettino genere ma siamo sempre nell'ottica di bloccare in tutte e per tutti gli avversari semplicemente non lasciando di carte in mano esattamente in alcuni casi prendendole noi anche così giusto per gradire vero ma più che altro qui c'è la deviazione dalla norma che è stato fino in questo che c'è stata fino in questo momento se avete notato era tutto quanto molto incentrato sugli artefatti purtroppo per quanto riguarda questo tipo di effetti per sebbene noi abbiamo i colori per farlo non ci sono artefatti che possano equilibrare questi questi elementi salvo te feri puzzle box però purtroppo o forse per fortuna per noi abbiamo altri modi per evitare che gli che i giocatori giochino carte o semplicemente peschino carte in questo caso narset insieme a te feri puzzle box è una carta molto 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 ma molto ma molto quante volte si può dire molto in questo video penso all'infinito cattiva questo perché il wording su te feri puzzle box dice che pesca altre carte quindi pescola prima tranquillamente e o devo mettere tutta la mano in fondo e pescare altrettante carte nota bene all'inizio della draw step quindi io pescherò la prima carta mettiamo tutte le carte sotto narset dice non possono pescare più di una carta a turno beh nel tuo turno la tua carta l'hai già pescata finito zero carte in mano senza nessun problema per quanto riguarda invece mara line opposition agent la cosa si fa un pochettino più divertente perché si puoi pagare puoi perdere i tre punti vita e si puoi cercare il tuo mazzo ma non sarai tu ad utilizzare quella carta esatto la useremo noi perché chiaramente viene controllata da opposition agent che in questo caso va a intercettare l'effetto di tutoraggio che obbliga mara line a fare quindi di fatto queste due carte nere o la combinazione narset e feri ci permette di impedire l'accesso ai mezzi avversari praticamente e quindi la possibilità di interagire con noi in qualche modo ma perché queste carte ovviamente hanno un decorso e bisogno di essere magari trovate eccetera eccetera quindi magari l'avversario nel frattempo ha potuto fare qualcosa ma anche qui abbiamo modi per zittirlo penso nel peggiore possibile perché saremo capaci di distruggerli completamente la mano a base esatto non avrà più terra in campo e o altre cose che poi vedremo perché qui si lavora di fino volendo esattamente mikos intelatis come avevamo visto prima permette non poche porcate con per quanto riguarda tutto ciò che ha a che vedere con gli artefatti ovviamente non possiamo basarci solo su mikos intelatis e quindi abbiamo abbiamo voluto aggiungere questo liquid metal coating che i più che giocano modern e legacy conosceranno come lo spaccaterra definitivo soprattutto quando mettiamo vicino un carn ora io all'inizio avevo pensato quando stavamo parlando di roberto di utilizzare carn the great creator però non lo so la carta perde un pochettino di valore quando noi non possiamo accedere a una carn board stavo dicendo wish board mi sono corretto con carn board però poi mi sono ricordato dell'originale dell'uomo che già prima di carn the great creator distruggeva le mana base carn silver golem è un 5 mana 4 4 che quando attacca o diventa quando blocca diventa bloccato prende meno 4 più 4 fino alla fine del turno un buon elemento di flavor perché si sa carn è un pacifista ma non è la cosa che ci interessa a noi interessa quel un mana generico un artefatto non creatura diventa una creatura artefatto con forza e costituzione uguale al suo costo di mana convertito fino alla fine del turno se io trasformo una terra beh non ci vuole una laurea in scienza o in matematica per scoprire che una terra artefatto se la trasforma in una creatura è una 0 0 e quindi per state base effect muore senza possibilità di risposta esatto e questo ovviamente lo potremo fare in base al mana disposizione per tutte le volte che ci troviamo qualcuno che prova a giocare qualche terra o fare qualcosa con le terre e a questo aggiungiamo anche il fatto che qualunque spacca artefatti che noi potremo annoverare nel nostro mazzo di qualunque tipo esso sia e ce ne sono quanti ne volete può diventare una rimozione è una una rimozione precisa a questo punto a qualunque tipo di permanente ma ovviamente anche alle terre quindi esattamente diventa una uno spaccaterra qualcosa di indicibile ed è esattamente per questo che non abbiamo voluto mostrarveli perché la mole di carte che interagisce con incantesimi o artefatto o specialmente con artefatti nello specifico nei due colori presenti in brea beh avrebbe generato qualcosa come quattro cinque pagine di divisione rosso invece bianco c'è tutto quello che si vuole esattamente questa cosa è giusto per rimanere nella 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 nel flevro della cattiveria più assoluta quindi abbiamo mostrato come spaccare le terre ora vi mostriamo come rubarle o peggio rubare proprio tutto agli avversari perché limitarsi solamente a rubare le carte dal mazzo quando posso vedere prima la tua carta se è forte sul campo di battaglia e poi decidere sai cosa c'è grazie per il regalo anticipato anche perché di nuovo lattice ci permette di trasformare in artefatti tutto e quindi nernar che l'effetto dei fai del fanno da furto con destrezza esattamente duck faden il ahimè morto defunto più esatto più importante lato del multiverso ci presentano a meno due che è veramente quasi il borderline di una rimozione non distruttiva o scusa mi ho detto non distruttiva distruttiva per il nostro avversario certo ovvio ma soprattutto ci dà comunque delle altre abilità molto simpatiche l'emblema eventualmente con qualche giochetto malvagio si può utilizzare per rubare qualche altra cosa con qualche effetto di target o spell di target chiedo scusa la più uno è un semplice lutto ma memnark fa giochetti perché anche da solo ci permette in fase avanzata della partita di rubare selettivamente i pezzi dell'avversario ricordiamo comunque che questo amorevole mago settimana ha già dalla sua il un permanente bersaglio diventa un artefatto in aggiunta ai suoi altri tipi c'è qualcosa che non quadra sbaglio hanno dimenticato qualcosa e dove è di solito di solito effetti così nel magic moderno lo vediamo fino alla fine del turno sì sì non nel caso di memnark è permanente sta cosa esatto e questo significa che io posso utilizzare tre mana per decidere sai cosa c'è mi piace il tuo comandante adesso è un artefatto turno mio quattro mana grazie per il tuo comandante sì infatti sì sì è la cosa incredibile che questa è appunto una carta storica ma il problema qui è proprio questo avendo un pool di carte così espanso che va a pescare ovviamente carte anche molto vecchie alcune uva maschera una carta vecchissima veramente carte che arrivano proprio dalla storica il primo carna null rod ad esempio se ben ricordo tempesta sì sì esatto quindi capite bene che quando si parla di artefatti e anche per questo che è un è un tipo di permanente viene molto usato e tra più giocati tra l'altro in edh perché permette tante cose qui chiaramente vi stiamo facendo vedere l'abominio costruire attorno a questi oggetti oggetti c'è però un'ultima cosa un ultimo pezzettino che in realtà sembra innocuo perché lui è tranquillo è solo un winding clock cioè dice una cosa semplice però in realtà nell'ottica scusa non posso non contenere il mio sorriso quando vedo un winding clock e mi ricordo di tutto quello lì che abbiamo deciso prima di tutto quello lì che vi abbiamo mostrato prima perché sì è bello dare flash ai propri artefatti è bello farli tornare dal cimitero ma è bello farlo ogni turno sì assolutamente ricordiamoci che effetti di un tap tap possono essere utilizzati da emry li possiamo utilizzare da goblin wilder li potremo teoricamente utilizzare se riuscissimo a riprendere il nostro turno anche da mans lever perché a quel punto lì possiamo tapparlo e ritapparlo tutti questi effetti hanno effetti di tap alcuni li possono permettere di adesso vi faccio vedere se c'è qualcos'altro beh ci sarebbero quelli per esempio di di quel megalt coating e e poi abbiamo un'altra cosa importante in mana molti di questi effetti costano ovviamente stappare artefatti per un mazzo a base artefatti vuol dire stappare le fonti di mana fondamentalmente perché ne avremo sicuramente più di uno vuoi perché ci fanno comodo vuoi perché li troviamo vuoi perché li recuperiamo vuoi perché ci permettono di essere sacrificati insomma la nostra mana base pescherà ovviamente avrà diverse fonti che si baseranno sugli artefatti e qui apriamo le porte alla qualunque chiaramente esattamente ma soprattutto non dimentichiamoci mio caro roberto il micos in trattis trasforma le nostre terre in artefatto esatto qui c'è anche questo quindi alla fine se avessimo lui in campo anche le terre ordinarie diventano strumenti artefattosi da poter restappare e tappare quanto vogliamo per fare tutti qui a questo punto car diventa alle carne fa bello ok iniziamo a spaccare ogni turno tutte le mani a base tranne la mia la mia può rimanere lì esatto esatto quindi direi dopo questa carrellata vi abbiamo mostrato non tanto breia perché breia è un mezzo ha alcuni effetti utili da incastrare ma di fatto è semplicemente un mezzo per avere una base quadricolor orientata agli artefatti chiaramente che vi permette però di costruire delle rie di gioco odiose possiamo dire molto odiose ma soprattutto soprattutto io vorrei vorrei un attimo calmare questo impeto che ci ha preso nel voler costruire questo nel voler ricercare e costruire queste piccole combo per voi non caricate troppo come avete potuto ben vedere le combo hanno pezzi intercambiabili e quant'altro però il troppo storpia breia di per sé è un comandante che vuole fare determinate cose e le vuole fare bene cioè sono breia che virano un pochettino più verso il combo breia che virano un pochettino di più verso il controllo questi elementi che abbiamo che vi abbiamo mostrato sono elementi che possono aiutare quella lì che comunque è la mi sia permesso mio caro roberto di chiamarlo piano a di breia che sia esso vincere con infiniti totteri che sia esso vincere in modi strani magari contando 10 artefatti con lo stesso nome si vince la partita e quindi noi qui ripeto e forse non lo stiamo stressando abbastanza il fatto che non abbiamo voluto costruire un mazzo per voi già belle fatto ma ci siamo chiesti quanto possiamo spingere breia oltre quella soglia di dire ok è un semplice comandante value sì e soprattutto in questo caso specifico raccontarvi alcuni strumenti alcune sinergie che chiaramente non fanno il mazzo e non sono tra l'altro le chiusure del mazzo con questi non chiudiamo con questi facciamo delle azioni per magari permetterci di chiudere con piano principale che può essere quelli che hai raccontato e tanti altri quindi alcune carte a one in clock è una carta utility che se ho artefatti la gioco punto non sto neanche a prescindere il resto è a vostra discrezione con diciamo il senso anche di capire cosa effettivamente può essere funzionale rispetto anche al tavolo che dovete affrontare se siete molto più competitivi o molto meno competitivi se gradite di più un certo tipo di meccaniche o altro ovvio tutto metterlo insieme ha poco senso anche perché poi avrei troppi slot occupati e lascierei poco spazio invece delle chiusure reali anche perché vorrei ricordare che ad esempio se noi andiamo a vedere micro synth lattice più null rod noi dobbiamo comunque nell'ottica di montare un mazzo con questa sinergia mettere anche qualche spell che ci permette di distruggere gli artefatti in modo tale che eventualmente noi possiamo non lo so con qualche alt'ulteriore fonte di mana non attivato che poi ci sono metti un qualsiasi ma non mi ricordo quale ma ci sono comunque artefatti che ogni ogni mantenimento danno danno mana se ben ricordo o comunque ci sono permanenti con il mantenimento danno mana spaccare un null rod o comunque anche nella convinzione di null rod ci dobbiamo rendere conto che è un'arma a doppio taglio possiamo giocarlo però dobbiamo renderci conto che dobbiamo anche noi giocarci attorno sì ricordiamoci sempre che come tutte le armi vanno sapute usare se no ci scoppiano in faccia e diventano delle cose non utili alla nostra finalità con quest'ultima perla di saggezza io e fabio abbiamo voluto lasciarvi per guidarvi nella via oscura del male di di h e non solo chiaramente vi aspetto nei commenti per vedere se questo format vi piace magari ci volete suggerire qualcosa sotto nei commenti ovviamente andate a trovare fabio sogiobo il suo canale twitch ovviamente metterò tutti i dettagli in descrizione del video e se vi piace questo format fatecelo sapere che potremo ripetere ovviamente su altri temi con altri comandanti le malefatte che si possono fare in questo bellissimo formato 100 card di nuovo ciao fabio e ci si rivede presto qui su underground si alla prossima addio qui Ciao Grazie.